Musica Ciao miei giovani amici di MyFastbook, oggi il mio invito alla lettura è per il libro C'è nessuno? di Heunstein Garder, edito da Salani. Questo libro è consigliato da Christian, il mio caro amico youtuber, che ringrazio e saluto per i suoi preziosi consigli per questi bellissimi libri per ragazzi. Questa è la storia di Joachim, otto anni, in attesa di un fratellino, è rimasto da solo in casa. Sua madre è colta dalle prime doglie e è corso in ospedale accompagnata dal padre. Joachim intanto guarda fuori dalla finestra e a un tratto, cosa vede? Si accorge che c'è un bambino appeso per i calzoni e a testa in giù in un albero del giardino. È una strana creatura, simile ad un umano, ma non è del tutto uguale. I due parlano e si raccontano e si interrogano sulle proprie origini, finendo quasi inadvertitamente col porsi i grandi interrogativi che riguardano la vita e il suo significato. E voi? Sicuramente avrete anche voi delle domande importanti sulla vita e sul suo significato. Beh, fatemi sapere, eh? Mi raccomando! Buona lettura! Ciao! A presto! Grazie a tutti!